Allora, vieni al sud con me. Dai, vieni. Un weekend a Tatawin. Allora, ci si nasconde dietro gli alberi. Andiamo, piccioncini, venite. Quanto tempo può resistere? Due settimane. Forse tre settimane al massimo. In ogni caso non dovete perdere la speranza. Non possiamo aspettare le vostre analisi. Veramente abbiamo un problema con i suoi risultati. Ha bisogno di un donatore. L'abbiamo inserito nella lista dei trapianti, ma la donazione di organi non è diffusa nella nostra cultura. Non sarà facile. È suo figlio. Questo paese è fottuto. 150.000 dinari e Aziz è salvo. Cosa? Ogni problema ha una soluzione. La decisione va presa entro oggi. Di che cosa sta parlando? Perché vuoi trasferire Aziz? Perché vuoi lasciare l'ospedale? Io non resterò in silenzio, voglio sapere. A me non importa, io voglio salvare mio figlio. Non ti lasciatevi! Non potete passare. Avete ancora una possibilità per tornare a una vita normale e lasciarvi tutto alle spalle. A me non importa, io voglio salvare mio figlio. a me non importa, io voglio salvare mio figlio.